Ben trovati, quello che oggi andiamo ad affrontare un argomento molto molto delicato, il dibattito è aperto, parliamo delle trivellazioni in mare, il 17 aprile prossimo ci sarà questo referendum quindi i cittadini saranno chiamati a pronunciarsi. Intanto ne parliamo con i nostri ospiti di oggi che sono il sindaco di Amendolara, Antonello Ciminelli, benvenuto sindaco, e ne parliamo con il primo cittadino di Trebisacce che è Francesco Mundo. Su questi territori possiamo dire il dibattito davvero è molto acceso, oserei dire anche incandescente, perché le concessioni alle trivellazioni, all'installazione di piattaforme per l'estrazione di idrocarburi in mare preoccupa e non poco questi territori. Iniziamo dal sindaco Mundo. Sì, in effetti è vero, siamo molto preoccupati per i risvolti che possono avere queste piattaforme nel mare Ionio. Il nostro territorio è a vocazione turistica, dove c'è anche un centro agroalimentare come la piana di Sibari, dall'altra parte c'è il metapontino, poi ricchezze paesaggistiche ambientali inestimabili, che si coniugano ancora con anche altre risorse sempre di natura turistica, quali sono i percorsi archeologici. Noi abbiamo iniziato questa battaglia, ormai sono due o tre anni, contro le trivellazioni e con tutti i comuni della fascia ionica siamo in prima linea. Certo, questo referendum ha risvolti politici diversi, al di là poi del significato che si può esprimere votando sì o no. È in gioco il rapporto per quanto concerne l'energia e il territorio, la partecipazione, il significato della partecipazione democratica al referendum e quindi è anche un risvolto di natura politica per le tante battaglie, lotte che ci sono poi anche all'interno non solo tra gli schieramenti, ma anche all'interno di un solo schieramento. Per cui è importante andare a votare, perché poi, come tutti sappiamo, i quesiti referendari erano cinque, quattro sono stati superati dall'ultima legge di stabilità, che di fatto ridanno alle regioni e quindi agli enti territoriali il diritto di dire la loro sui permessi, mentre rimane il quesito relativamente alla possibilità di prorogare le concessioni già in essere nell'ambito delle 12 miglia e alle compagnie che già ce l'hanno fino ad esaurimento dei pozzi. Quindi la posta in gioco è notevole, che va al di là poi del vero significato referendario, se votare sì o no. A noi, come comuni costieri, per i motivi che ho detto prima, riteniamo che di dover sensibilizzare i cittadini ad andare a votare, perché a noi, al di là poi delle lotte interne tra i partiti, tra gli schieramenti, interessa la tutela e la salvaguardia del nostro territorio, la tutela e salvaguardia del nostro mare, che è la più grande risorsa, la più importante risorsa che noi abbiamo intorno al quale pensiamo di sviluppare un indotto economico turistico notevole. Noi abbiamo messo in atto una serie di progetti, per cui riteniamo che l'installazione, quindi la concessione delle autorizzazioni a trivellare il nostro mare, potrebbe pregiudicare veramente ogni ipotesi di sviluppo del nostro comprensorio. Ecco, queste sono le nostre ragioni fondamentali. Intanto lo dico subito, i telefoni sono aperti, quindi anche i cittadini possono intervenire anche per capire meglio come funziona questo referendum, perché il rischio è quello che non si raggiunga poi il quorum. Sì, assolutamente, questo è un rischio concreto e noi dobbiamo assolutamente fare tutto quello che è possibile, ci dobbiamo davvero mobilitare, tutti quelli che magari sono in prima linea, ma ci rivolgiamo a tutti i cittadini di mobilitarsi in ogni modo, ormai attraverso anche internet, attraverso i social c'è questa possibilità e quindi ritengo che quanta più gente si può portare al voto, tanto più questo referendum possa costituire un successo per le popolazioni, e dico in particolare per le popolazioni del sud, perché affermare che questo sia un referendum tra virgolette meridionale forse è abbastanza vero, soprattutto perché fra le regioni maggiormente, diciamo, fra quelle che sono state in prima linea a promuovere i referendum attraverso azioni concrete e atti amministrative, ricordiamo la Calabria, la Basilicata e la Puglia, alla Puglia stessa è riconosciuta una sorta di ruolo di capofila, seppur il Presidente Emiliano, secondo me con un atteggiamento di umiltà assoluta, ma di intelligenza e soprattutto di buonsenso, continua a ribadire che in questa vicenda lui non è capofila, ma assolutamente siamo tutti coinvolti perché contro le trivellazioni c'è una volontà unanime. Quello che si cerca di fare è di disincentivare, non tanto chiedendo ai cittadini o spiegando le ragioni del no, ma semplicemente assumendo una sorta di difesa passiva che è quello di non andare a votare. La scelta del governo è stata assolutamente censurabile, cioè quella di individuare nel 17 aprile la data per il referendum, è del tutto evidente che facendo questo credo che abbia leso due diritti fondamentali dei cittadini italiani, cioè quello di veder raggiunto il risultato, perché certo qualcuno dice che se tutti volessero andare a votare lo possono fare tranquillamente, ma qui entrerebbe in gioco ed in ballo tutte le considerazioni del caso circa la capacità dello Stato stesso di promuovere immediaticamente il referendum e quindi di spingere quanto più gente è possibile al voto. Per quanto mi riguarda, tranne pochissime trasmissioni, nessuno si occupa e quindi lode a voi che lo state facendo perché parlarne significa già informare i cittadini, significa far capire quali sono i pericoli a cui andiamo incontro, seppur se qualcuno potesse mai leggere, noi comuni a Mendolare, a Trebisacce siamo assolutamente a disposizione da noi quando arrivano questi permessi, perché poi ce li devono quantomeno inviare per conoscenza, se uno li potesse leggere, in queste relazioni allegate si spiega che trivellare il nostro mare praticamente il rischio sarebbe pari a zero, come se una piattaforma fosse quasi una fabbrica di caramelle. Dicono che non ci sono stati grossi incidenti anche in altre aree. Sì, ma il problema è che non è che si deve verificare per forza un incidente per inquinare il mare, io ricordo solo per fare un esempio che la Basilicata, che è la prima regione produttrice di petrolio in Italia, la diga del Pertusillo è inquinata ai 2 milioni di pugliesi, almeno questo è quanto risulta da alcuni studi, seppur tra virgolette il condizionale è d'obbligo, ma la dico semplicemente per opportunità. La diga del Pertusillo è inquinata e circa 2 milioni di pugliesi continuano, secondo noi, a bere acqua inquinata e quindi le conseguenze le conosciamo benissimo. Come sono conosciute benissimo le conseguenze della mera prospezione, cioè le ricerche con questa tecnica, l'ergan, che da sola è in grado di distruggere, di ammazzare i pesci, di ucci, di rovinare, quindi di distruggere tutte le uova, di provocare danni già da sola per far sì che si possa negare assolutamente il permesso di trivellare. Non parliamo poi delle trivellazioni, perché le trivelle per poter arrivare agli oltri millimetri dove si trova il nostro petrolio, perché secondo me è un mero eufemismo, perché noi parliamo di fango di petrolio, di bassa qualità. Quando si trivella si utilizzano degli acidi e dei lubrificanti per poter arrivare a queste profondità che già da sole inquinano il mare e farebbero dei danni irreparabili. Mi permetto solo di sottolineare e concludo che il mare Ionio è un mare chiuso e che per ricambiare le acque completamente impiega circa 200 anni, quindi immaginiamo che cosa può fare solo l'utilizzo di questi solventi al mare e quindi secondo noi, ma secondo studi scientifici, il problema è che in questo paese molte volte è facile dimostrare attraverso qualcuno, magari compiacente, che le trivellazioni quasi quasi sono una panacea per tutti i mali, anche in termini occupazionali e quant'altro, ma sicuramente ne parleremo. Perché qualcuno dice se vi opponete alle trivellazioni e alle trivelle si andranno a perdere tantissimi posti di lavoro. Intanto però, prima vorrei far vedere anche la posizione della provincia di Cosenza, proprio ieri è stato diffuso questo documento, c'è una presa di posizione, anche la provincia di Cosenza dice no alle trivelle in mare. Allora possiamo vedere questo contributo? Sta per partire questo servizio, ecco. Questo mare, il nostro mare, il Mar Ionio, rischia di perdere la sua straordinaria bellezza a causa di possibili trivellazioni alla ricerca di idrocarburi, trivellazioni che prevedono anche la costruzione di impianti sulla costa. In vista del referendum abrogativo sullo stesso argomento fissato per il 17 aprile, la provincia di Cosenza prende posizione fermamente contro queste trivellazioni. Il vicepresidente della provincia, Franco Bruno, ha firmato una disposizione con la quale vengono presentate osservazioni alla procedura di valutazione di impatto ambientale inerente il progetto di perforazione di un pozzo esplorativo nel territorio di Cassano Ionio, opponendosi in sostanza alla realizzazione dell'intervento. Ci sono notevoli preoccupazioni sul piano ambientale e turistico, come si precisa dalla provincia di Cosenza, per le possibili pesante ricadute socio-economiche. L'intervento prevede la realizzazione, a ridosso dei laghi di Sibari e nelle immediate vicinanze del noto villaggio turistico, di un impianto industriale per la realizzazione di un pozzo suborizzontale della lunghezza di circa 4.000 metri, finalizzato alla ricerca ed eventuale estrazione di idrocarburi da un bacino offshore nel Marionio. Ma Bruno sottolinea che l'impianto si colloca in una zona ad altissima valenza turistica, rinomata non solo a livello nazionale ma anche internazionale, con numerose strutture ricettive che sono fonte di sostentamento per gran parte della popolazione. E questo è anche il maggior comprensorio agricolo e zoo tecnico della provincia, con produzioni di altissima qualità che sostengono l'economia del territorio. Il vicepresidente della provincia osserva anche che la piana di Sibari è caratterizzata da un complesso ed articolato assetto idrogeologico e c'è di più. Il previsto insediamento industriale si colloca proprio nella ben nota area archeologica di Sibari, sito di rilievo mondiale e dove ancora ci sono scavi in corso. Nel dispositivo presidenziale si sottolinea anche che la provincia di Cosenza ha promosso il contratto di fiume Crati, che comprende anche la Foce, proprio per programmare la realizzazione di interventi ambientalmente sostenibili e che l'ente ha aderito al protocollo d'intesa per la costituzione del partenariato di progetto per la riserva mondiale della biosfera, denominato Riserva Area Mab Sila, promosso dall'UNESCO. Per tutte queste ragioni che puntano alla salvaguardia ambientale dell'aria e alla protezione dei comparti che sostengono l'economia locale, la provincia di Cosenza si oppone alla realizzazione del pozzo esplorativo, trasmettendo subito le sue osservazioni al Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare. Abbiamo visto immagini di un mare fantastico, bellissimo. Voi temete che con l'avvio delle trivellazioni e la ricerca di idrocarburi in questo mare, addio ai turisti, addio alle bandiere blu anche. È vero e questo ci dispiace, Trebisacce è stata per due anni consecutivi l'unica bandiera blu della provincia di Cosenza, speriamo di avere questo riconoscimento insieme a altri comuni, a Mendolare e altri, anche per il corrente anno. Al contrario, noi riteniamo che le trivellazioni causeranno una perdita di posti di lavoro, perché allo stato attuale, pur lasciando così le cose, non ci sarebbe una riduzione, mentre al contrario, se si darebbe seguito e quindi si realizzassero queste trivellazioni, soprattutto per il nostro compensorio, si metterebbero a rischio tanti posti di lavoro, perché poi l'Oionio Cosentino vive fondamentalmente di turismo. Solo nella piana di Sibari, Altoioni, abbiamo oltre 12 mila posti letto, con oltre 3 mila addetti, con tutto l'indotto che può sprigionare in termini di economia e di occupazione, mentre al contrario le trivellazioni comporterebbero di fatto un pericolo per tante risorse, a iniziare dai posti di lavoro. Si pensi che il PIL che produce il turismo in Italia è pari al 10%, con 160 miliardi di euro di produzione, che le trivellazioni potrebbero di fatto mettere a rischio. Io volevo aggiungere che, al di là degli incidenti, in merito al discorso di prima, proprio le piattaforme per la normale attività estrattiva, al di là degli incidenti che si possono verificare, comporta un danno per il nostro mare, per i sedimenti che lasciano e anche per le fuoriuscite di petrolio che inevitabilmente si verificano. Considerate poi che questi comportano l'estrazione petrolifera in Italia e pari all'1% del fabbisogno con una produzione molto limitata. Per l'intero fabbisogno sarebbe uguale a soddisfarelo solo per due mesi. Ecco che i conti non tornano, che si fanno questi discorsi solamente per agevolare le compagnie petrolifere, perché altrimenti, considerata anche la scassa qualità poi del greggio, come tutti sanno, sarebbe veramente inopportuno e quindi un altro motivo per dire sì al referendum del 17 aprile. Ecco, per quanto riguarda i posti di lavoro che si andrebbero a perdere secondo i sostenitori del sì alle trivelle, quindi del no al referendum, perché spieghiamo, chi va a votare sì al referendum è contro le trivelle, chi invece dice no è il contrario, quindi è favorevole alle trivelle. Quindi questo è bene spiegarlo in maniera chiara. Dicevo, per quanto riguarda i posti di lavoro che si andrebbero a perdere, anche lei ha una posizione ben precisa. Prima eravamo in pubblicità, mi ha detto addirittura che si tratta di un ricatto che si fa ai territori. È del tutto evidente che attraverso questa sorta di teorema, perché di questo si tratta, o meglio, oserei dire, di un vero e proprio slogan, è che proibendo praticamente le perforazioni si perderebbero un determinato numero di posti di lavoro. Innanzitutto bisognerebbe capire quanti posti di lavoro potrebbero occupare i nostri cittadini, perché questo già diventerebbe più interessante, perché se oggi, come diceva bene il Sindaco Mundo, noi non abbiamo piattaforme che verrebbero di fatto smantellate a seguito del sì al referendum, quali posti di lavoro si dovrebbero perdere nel meridione, in particolare laddove le prospezioni sono più numerose rispetto ad altre parti d'Italia. E quindi rivolgersi a degli elettori, laddove, ed in particolare a quelli meridionali, laddove la questione lavoro è una questione importantissima, perché tutti sappiamo la crisi economica che cosa ha prodotto. E quindi parlare di perdite di posti di lavoro è del tutto evidente che dovrebbe incentivare a votare no. Allora, noi dobbiamo fermare pochi istanti, perché dobbiamo dare la linea alla regia per la pubblicità, riprenderemo tra poco proprio da questo punto. Rimanete con noi. Eccoci di nuovo in studio, ricordo l'argomento che oggi stiamo affrontando, questione trivelle in mare. Non so se abbiamo una telefonata, no? Ecco, ricordiamo che abbiamo i telefoni aperti, quindi potete intervenire per partecipare a questa discussione, che stiamo facendo ricordi insieme al sindaco di Amendolare, Antonello Ciminelli, al sindaco di Trebisaccio e Francesco Mundo. Allora, prima di andare in pubblicità stavamo parlando di queste opportunità di lavoro che andrebbero perse qualora si dicesse no alle trivelle in mare. Lei mi diceva che in sostanza è un ricatto, bisognerebbe poi capire quante persone del posto andrebbero… Innanzitutto, ma poi io faccio una semplicissima riflessione. Qualcuno si è chiesto quanti posti di lavoro si sono persi in Basilicata, a ridosso di Vigiano e di tutti i luoghi dove ci sono le trivellazioni per l'agricoltura, di quanto il prodotto interno lordo della Basilicata, per quanto concerne l'agricoltura, ha perso per la presenza del petrolio in Basilicata, qual è effettivamente il vantaggio, perché ricordo, l'ho detto anche prima, la Basilicata è il primo produttore di petrolio, è la prima regione per produzione di petrolio, eppure qualcuno mi sa dire quali sono i vantaggi per i lucani, se non una tessera di 180 euro all'anno per fare una tessera carburante che viene regalata ai cittadini della Lucania. Io credo che la presenza del petrolio, l'inquinamento, i posti di lavoro che si perderanno quando queste società andranno via e lasceranno i pozzi esauriti, perché ricordo a tutti che il problema degli incidenti non è tanto all'inizio quanto il pozzo è a pieno regime, con tutto quello che abbiamo detto per la ricerca e per l'utilizzo di questi lubrificanti per le trivellazioni, ma soprattutto gli incidenti diventano importanti quando il pozzo è vicino all'esaurimento, tant'è che con la legge ultima che è stata approvata si è cercato anche di mettere un po' ordine, ma ci siamo mai chiesti di quali siano le conseguenze ambientali e quindi di quanti posti di lavoro si perderebbero se le trivellazioni potessero arrivare fino alle 12 miglia come è stato fatto con l'ultima legge e con il famigerato articolo 38 dello sblocca Italia. Io credo che si dovrebbero fare i calcoli di quanti posti di lavoro si perderebbero nel turismo, nell'agricoltura, se ci fosse una piattaforma di fronte ad Amendolara sulla secca, perché ricordo che c'è anche un permesso di richiesta di prospezione e quindi di trivellazione del mare al ridosso della secca di Amendolara, che è l'unico posto di riproduzione dello Ionio, uno dei posti della secca, è questa sorta di montagna che sprofonda ed è un sito di interesse comunitario, ormai ZPS, zona protezione speciale, laddove c'è la presenza di Corallo, della Pinna Lobilis, noi su queste cose che dobbiamo puntare e su queste cose che stiamo puntando e proprio le trivellazioni vicino alla secca praticamente la distruggerebbero, quindi sarebbe un bene perso irrimediabilmente. Io credo che una valutazione non si voglia fare, una riflessione seria non si voglia fare, anche perché noi avremmo bisogno di una politica energetica, di scelte di politica energetica anche a livello nazionale che dovrebbero ormai guardare ad altro. Ricordo semplicemente a me stesso che la Calabria e noi in termini di energia solo proveniente dalle fonti rinnovabili, ormai per quanto riguarda la Calabria siamo assolutamente autosufficienti. Certo c'è il problema del petrolio per quanto riguarda la trazione, ma lo ricordava il sindaco Mundo, l'1% e solo per sei mesi, per tre mesi del fabbisogno nazionale soddisferebbe tutto il petrolio che c'è nello ionio. Ma aggiungo e concludo, non si riesce a capire, e mi sia consentito di essere meridionalista, come mai, e non ne faccio il nome, l'ex ministro all'epoca del governo Berlusconi, se non erro, cancellò le trivelle dal Golfo di Venezia in una sola notte e dovrebbero rimanere nel nostro mare, nello ionio in particolare, e quindi provocare tutti i danni che lì si è pensato di evitare. Perché anche lì, proprio perché noi siamo sensibilmente, a livello ambientale, molto meno sensibili rispetto a quello del nord, hanno voluto proteggere un ternitorio che sarebbe ambientalmente più sensibile in termini proprio squisitamente naturalistici. Io credo che non ci sia paragone fra quello che noi abbiamo in termini di patrimonio naturalistico, fra la Calabria e il Golfo di Venezia. Però io credo che non dobbiamo cadere nell'errore di dire fino a quando la trivella o le trivelle le mettono alla porta al canto, noi le vogliamo, quando sono a casa nostra noi non le vogliamo. Noi diciamo no a qualsiasi forma di estrazione perché credo che ormai ci sia tutto, abbiamo le tecnologie per puntare ad altro. Dobbiamo insistere perché si facciano delle scelte politiche diverse, si vada verso una riconversione e crediamo che come abbiamo superato tutte le perdite di posti di lavoro in agricoltura, lo stesso Stato con le riforme della pubblica amministrazione, dei comuni, parliamo di poste, parliamo di tribunali. Quando si va a questa riduzione lo Stato non guarda alla perdita dei posti di lavoro. La mutualità dello Stato lì non esiste, la mutualità dello Stato dovrebbe esistere nel caso delle trivelle. Abbiamo le royalties più basse al mondo, stiamo parlando del 7%, in Somalia sono al 35%, in Senegal sono al 50%, in Italia siamo al 7%, ricadute occupazionali zero, royalties non ne abbiamo, vacanze pagate per nessuno abitante della Calabria della Puglia Basilicata non ce ne saranno, futuro per i nostri figli non ce ne saranno. A questo punto mi si spieghi perché noi dovremmo accettarlo passivamente. E poi noi ribadiamo e rivendichiamo il nostro diritto ad autodeterminarci e a dire no alle trivellazioni. Chi li vuole se li tenesse a casa sua? Io credo che non dovrebbero esistere da nessuna parte, almeno laddove è più possibile la distruzione di un ambiente che ne venga irriparabilmente danneggiato. Laddove ci sono tutti i crismi di sicurezza e di compatibilità ambientale possono anche essere realizzati, ma io penso che il futuro non è certamente nelle energie fossili. Il problema è anche sensibilizzare i territori perché voi dite non è un problema che riguarda solo l'Alto Ionio Cosentini, è un problema che riguarda un po' tutti i territori. Il rischio è che non si raggiunga il quorum il 17 aprile. Sì, in effetti siamo preoccupati per questo. Come diceva... Allora, intanto facciamo... Ecco, abbiamo un servizio, un contributo, poi riprendiamo dal sindaco, perfetto, perché riprendiamo tra poco, perché in tutta la Calabria c'è anche questo dibattito, questo è il servizio che abbiamo realizzato anche a Catanzaro, quindi vediamo questo contributo filmato. Cominciamo da un numero. Gli impianti di estrazione a mare di gas o petrolio sono in Italia 135, 900 in Europa, di questi soltanto 500 attorno alle coste della Gran Bretagna. Il 17 aprile si voterà in occasione del referendum che deciderà il futuro delle piattaforme italiane, in particolare se i permessi per estrarre idrocarburi in mare entro 12 miglia dalla costa, cioè più o meno a 20 km da terra, debbano durare fino all'esaurimento del giacimento, come avviene attualmente, oppure fino al termine della concessione. Una questione tecnica che in effetti ha avuto un minimo risalto in una campagna referendaria poco efficace. Ognuno avrà o si farà la propria idea sull'opportunità di partecipare al referendum ed esprimere le proprie parere. Slow Food e Libera, che hanno un orientamento ben preciso, ritenendo anacronistica le tre violazioni, invitano comunque al dialogo e alla partecipazione. Slow Food, che è la situazione che insieme ad altri ha lanciato questo referendum, vuole fare in modo che la gente sappia di cosa si sta parlando, perché il vero problema qua è un problema che è legato alla politica energetica del nostro Paese, perché il quesito referendario onestamente è modestissimo, il quesito referendario dice solo se volete o non volete che le piattaforme esistenti continuino ad operare. Noi poniamo un problema di cosa è meglio fare, in particolare per la Calabria, noi riteniamo che più che fare le relazioni e prospezioni forse è il caso di sviluppare più l'agricoltura, l'enogastronomia, il turismo, la pesca, cioè le ricchezze che sono le vere ricchezze della nostra regione. Le ragioni del no si basano sulla perdita economica dei territori che incassano le royalties e sulla perdita dei posti di lavoro, elementi da tenere in considerazione nel lungo periodo perché le concessioni attualmente in atto si estingueranno nei prossimi 18 anni. I timori occupazionali in realtà sono stati confutati da molti esperti, come sapete intanto gli effetti della vittoria del referendum non sarebbero immediati e quindi ci sarebbe tutto il tempo per operare una riconversione che anzi invece potrebbe aprire nuove prospettive di lavoro. Quello che è necessario però secondo noi e per questo abbiamo organizzato questa iniziativa è parlarne, dibatterne, tutte le opinioni ovviamente possono confrontarsi. Abbiamo visto un po' quello che è venuto fuori da questa riunione, stavamo dicendo poi il fatto di raggiungere il quorum ma sarebbe importante sindaco la presenza perché i territori devono dire da loro su questa questione che riguarda tutti i territori. riguarda tutti i territori, non può essere un ragionamento, un problema limitato. Scusate abbiamo problemi sul microfono, sul microfono del sindaco, ecco il nostro Michele è col gelato, vediamo se riusciamo a risolvere, sono problemi tecnici che possono capire. Il bello della diretta si dice, ecco, dicevamo la presenza proprio dei territori, no? È importante non limitare questa discussione, questo dibattito o il problema... ...a una parte del territorio del paese, né tanto meno a una parte della regione, della regione della regione, proprio per i risvolti, nel servizio veniva a posto, è un fatto fondamentale, al di là poi, che io avevo introdotto all'inizio, al di là poi del significato limitato al quesito referendario, il problema diventa un problema politico generale di scelta poi delle fonte energetiche che il paese dovrà adottare. E qua è la vera partita che diventa una partita importante, ecco, il voto referendario avrà questo significato, dovrà obbligare, speriamo che si raggiunga il quorum, a fare delle scelte sulla politica energetica alternativa di come fino ad ora si è fatto, accantonando un po' la ricerca degli idrocarburi, del petrolio e incentivando le energie alternative che poi su questo tema noi, ed è importante sollevarlo, troviamo anche una partecipazione diretta della Chiesa, mi piace riprenderlo, proprio per la conservazione e tutela dell'ambiente, del paesaggio. Non a caso Papa Francesco nell'ultima incitlica si è rivolta a tutti i cristiani e non solo. Laudato sì, mio Signore, perché tutti quanti noi dobbiamo agire, soprattutto coloro che hanno delle responsabilità politiche di governo, devono agire a tutela del nostro grande patrimonio, della tutela dell'ambiente. E noi proprio per dare seguito a questo proclama del sommo pontefice con il nostro vescovo della diocesi di Cassano all'Oionio, Monsignor Francesco Savino. Abbiamo intrapreso una serie di iniziative. Domani sera a Trebisacce terremo una grande manifestazione pubblica che vedrà la partecipazione di tutti i sindaci del comprensorio, dei rappresentanti istituzionali, dei rappresentanti della Chiesa e la partecipazione diretta del vescovo proprio per cercare di sensibilizzare, di far partire proprio da Trebisacce un grande messaggio rivolto non solo ai cittadini della costa Ionica, della Calabria, della Basilicata che vedrà la presenza anche dei sindaci di Policoro e di altri paesi. Vogliamo mandare a far avviare questo processo di sensibilizzazione perché la partita in gioco poi non è l'autorizzazione ad estrarre nell'ambito delle 12 miglia fino all'esaurimento delle risorse ma riguarda proprio il futuro del nostro paese, l'approvvigionamento dell'energia e cosa dovremmo fare per garantire l'approvvigionamento energetico. Ecco la vera partita al di là poi della post in gioco sul referendum è proprio questo e noi ci auguriamo, ne parliamo sempre con i colleghi che al di là poi dell'aggiugimento del 50,1% è importante che almeno dalle regioni meridionali finalmente riusciamo a scuotere le coscienze dei tanti cittadini, non solo di quelli che abitano i paesi, i comuni costieri ma anche di quelli dell'entroterra perché il mare è una grande risorsa a servizio di tutti e che tutti quanti utilizziamo non solo per fare i bagni ma soprattutto anche dal punto di vista economico e sociale. Questa è la nostra grande partita che dovremo giocare in questi giorni e speriamo che il 17 aprile riusciremo a dare questo grande messaggio di rinnovamento. Certo, oggi stiamo parlando delle ragioni del sì al referendum, quindi il no alle trivelle. quindi abbiamo visto da questa chiacchierata che stiamo facendo che secondo voi sono più i rischi legati alle trivellazioni in mare rispetto alle opportunità, quindi sul piatto della bilancia non siamo in pareggio come si dice. Assolutamente, non siamo assolutamente in pareggio perché, ma questo è evidente, si tocca con mano, non è assolutamente prospettabile ai calabresi, ai lucani o ai pugliesi che siamo per citare solo queste tre regioni, non possiamo assolutamente credere che le trivellazioni possono costituire per le nostre regioni un'opportunità. Noi lo stiamo ribadendo, l'abbiamo detto in tutti i modi, l'ha detto il servizio poco prima di Slow Food, laddove hanno sottolineato, e lo diciamo sempre, il nostro petrolio è l'agricoltura, il nostro petrolio è il turismo, il nostro petrolio sono le nostre coste. è davvero paradossale che nel 2020, perché ormai siamo nel 2020, quando ci sono nazioni che guardano ormai a tecnologie che necessariamente sono rivolte al futuro, noi continuiamo ancora a pensare che il fango di petrolio che abbiamo noi, perché nel nostro mare quello che si verrebbe estratto e fango di petrolio, possa costituire, alleviare quelle che sono le nostre problematiche. Secondo me questo significa mettere la testa sotto la sabbia e non vuoi guardare seriamente negli occhi il problema. In effetti si tratta di una decisione, mi sia consentita l'espressione scellerata del governo, perché ha voluto rispondere volutamente a delle richieste di lobby che cercano di sfruttare le ricchezze a discapito delle popolazioni. Quante sono le richieste che avete? Le richieste di prospozioni nell'Ionio sono circa 20, però quello che il referendum farebbe è che, e questo bisogna dirlo, è che riguarda solo le trivellazioni e le prospezioni future. Quelle già in essere purtroppo continuano ad andare avanti e già solo le oltre 106 concessioni di prospezione e trivellazione già avanzate, già da sola distruggerebbero il nostro mare. perché non costituiscono, ne potranno mai costituire un'occasione di sviluppo per i nostri territori. Noi abbiamo bisogno d'altro, qui a poche centinaia di metri c'è l'Università della Calabria. Io ritengo che l'Università come infrastruttura, la valorizzazione dell'Università possa costituire una seria politica di sviluppo per i nostri territori, continuare a pensare che questa sorta di tesoro che si trova sottoterra possa alleviare, come dicevo prima, le casse, o meglio rimpinguare le casse di uno Stato che secondo me pensa troppo in breve. Non è assolutamente un progetto a medio-lungo termine per il nostro Paese. Anche perché siccome si tratta di fonti di energia ad esaurimento, già da solo si spiega perché siano a breve termine queste scelte di politica economica. Io credo che ci dobbiamo rivolgere ad altro. Ma chiunque, prima lo diceva il sindaco Mundo, noi dobbiamo sensibilizzare i cittadini perché molte volte questo è un problema che viene, è un po' un problema mediato, nel senso che quasi quasi non siamo molto sensibili ambientalmente. Invece questa è l'occasione che noi dobbiamo tirare fuori tutta la rabbia perché per l'ennesima volta si vuole consumare in danno dei territori del sud l'ennesimo schlempio perché noi ne abbiamo già vissuti. Ma lo stesso, il giacimento di fronte a Crotone che da ormai da 20 anni succhia gasse. Lo sanno tutti che il territorio, un'intera fetta di territorio è franata ed è scesa di parecchi metri. Quindi questo significa che i danni ci sono, sono notevoli. Ci sono degli studi che addirittura ritengono che possano favorire i terremoti perché vanno ad influire sulle faglie telluriche. Io credo che su questo vada fatta una riflessione seria. Noi dobbiamo comunque assolutamente mandare un segnale forte al governo. Perché ha detto prima Franco quando dice che il segnale che va mandato da parte delle nostre popolazioni dell'interno e del Rivierasche credo che sia assolutamente importante. Noi dobbiamo dire, dobbiamo portare quante più gente al voto perché anche se non raggiungeremo il quorum, il fatidico 50% più 1, il governo deve capire che le trivelle, il petrolio non è la soluzione per noi. Assolutamente. Il segnale deve essere forte e quindi benvenga la manifestazione del primo di aprile, di domani, che vede impegnata la Chiesa in prima persona, che vede impegnate molti partiti politici, ma senza voler fare politica, perché credo che questo non sia un problema né di destra né di sinistra, l'atteggiamento del PD con questa richiesta di astensione credo che sia assolutamente sbagliata. Qualcuno più ha avvenuto, qualche rappresentante ha capito l'errore e dice no, io non sono per l'astenzione, io sono addirittura per il no. Però la posizione del partito, la posizione del segretario nazionale è stata chiara, addirittura Renzi ha dichiarato che questo è un referendum inutile. Questo non è un referendum inutile, e la dimostrazione palese della volontà dei cittadini, soprattutto delle tre regioni di Calabria, Puglia e Basilicata, che il petrolio non è il nostro futuro. Poi che il governo ne possa trarre la logica conseguenza, o ne possa fare le logiche dedizioni, questo per noi è assolutamente auspicabile. Noi ci contiamo. Siamo davvero in chiusura, però un'ultima battuta al sindaco di Trebisaccio, insomma il messaggio è il territorio non si tocca. Mi sembra opportuno, ma non è una questione, come dire, di lana caprina, non vogliamo che si tocca il territorio. Abbiamo analizzato un po' tutti. Il territorio, o meglio il mare, non si tocca, perché noi intorno al mare siamo convinti che, oltre quanto già ci dà in termini economici, in termini di turismo, in termini di lavoro, è una grande risorsa, perché da questo poi dipende il futuro delle nuove generazioni. Noi con i comuni dell'Alto Ionio stiamo mettendo in essere una serie di iniziative, e non ultima quella della costruzione di un lungo waterfront, partendo da Mendolara, tocchi i comuni di Albidona, Trebisaccio, Villapiana, fino a Cassano. E questo lo possiamo realizzare nel momento in cui all'orizzonte noi vediamo questa magnifica linea blu che ci dà speranza e non vogliamo far diventare il nostro mare, il nostro golfo di Sibari, quindi unito a quello di Taranto, come il golfo del Messico. Questa è la nostra speranza e su questo noi lotteremo. Anche perché, come per richiamare Papa Francesco, quando venne a Sibari, disse rivolta ai giovani, non fatevi rubare la speranza. E noi su questo dobbiamo continuare a lavorare, perché la speranza dei giovani, è una speranza per il futuro e soprattutto la tutela e la salvaguardia dell'ambiente. Grazie, grazie davvero. Al volo. Al volo un'ultima cosa. Noi sindaci siamo sempre in prima linea su tutto. A noi appena le analisi del mare sforiamo di 0,1 rischiamo la galera. Come si può consentire a questi signori di sforare qualsiasi limite scientificamente accertato e senza che lo Stato faccia nulla. Lo Stato non si deve arrendere, lo Stato e noi cittadini soprattutto dobbiamo continuare a combattere. Siamo davvero in chiusura. Io vi ringrazio per questi contributi. Grazie ad Antonello Ciminelli che è il sindaco di Amendolara. Grazie a Francesco Mundo, sindaco di Trebisaccio. E come sempre grazie anche a voi che siete rimasti in nostra compagnia. Arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti.